Di questi tempi c'è rimasto qualcosa contro cui ribellarci. Quello che manca alla nostra generazione è qualcosa che crea coesione, un obiettivo comune. Non è una stronzata. Voi dite che in Germania una dittatura non sarebbe più possibile. Lo escludo, ne conosciamo le conseguenze. Oh sì, molto bene. Stiamo diventando lentamente un corpo unico. Che cos'altro è importante in una dittatura? La disciplina, signor Wenger. Il potere attraverso la disciplina. Noi stasera facciamo una festa. Noi? Vuoi dire quelli dell'onda? E ora la festa continua! L'onda! 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 Questo è il nostro simbolo. E come un'onda travolgeremo tutta la città. Che cos'hai contro l'onda? Ti prego Marco, devi aprire gli occhi. L'onda sta diventando una cosa pericolosa. Dove vuole arrivare? Dottoressa Collagen, deve credermi. Non hai idea di come rispondono i ragazzi. Sono tutti fortemente motivati. Non voglio vederti più! Chi vi ha autorizzato a imbrattare i nostri simboli? Non so di che parli, testa di cazzo! No! Fatti sotto! Non fare cazzate! Sparisci o ti faccio un buco in fronte. Metti giù quella pistola. Tim! Hai perso il totale controllo della situazione. Completamente. Non può entrare, vestita così. Fammi passare. Vestita così no. Fermate l'onda! Fermate l'onda! Fermate l'onda! Vuoi essere il loro mito? Vuoi solo vederli pendere dalle tue labbra? Ti vuole manipolare tutti! Devi fermarla subito. Non dirmi che cosa devo fare. Non dirmi che cosa devo fare.